Passa su fifacoin.com e acquista i due crediti a prezzi bassissimi E con il codice Michael 5% di sconto, link in descrizione Salve a tutti ragazzi e bentornati da MakeShowsha siamo tornati con FIFA 17 Il video di oggi precede Halloween e in teoria non doveva neanche uscire Però è successa una cosa particolare, incredibile Quindi ragazzi ho dovuto per forza fare questo video Sono stati appena tolti dai pacchetti i giocatori Ultimate Scream Questi qui per Halloween Ma sono stati anche potenziati quindi tutti i giocatori hanno il bonus attivo Però perché sto facendo questo video visto che ho già spacchettato gli Ultimate Scream? Perché il giorno stesso in cui ho caricato il video è successo di tutto Innanzitutto ragazzi guardate qui ho riscattato i premi del Food Champions Sono arrivato come vi ricordo oro 2 quindi un pacchetto oro rari e un mega pacchetto più i crediti Quindi andiamo a vedere insieme che cosa ho ottenuto Eccoci qua, primo pacchetto Ultimate Scream Guardate un po', non me li ricordo neanche io Chi cacchio ho trovato? Portiere Viviano Vabbè 82 Viviano Cioè Però nello stesso pacchetto ragazzi di buono c'era Sané Come potete vedere Sané vale 4.000, 5.000 Vabbè Non li varrà mai Probabilmente ci rimane sul groppone Era uno di quei giocatori dinamici Peccato però vabbè Più Corri più veloce dei Terry Oltre a Terry però ho trovato Carrasco che ovviamente era team of the week qualche giorno prima Perfetto Perfetto Carrasco che vale un po' Mi pare che l'ho venduto a 9.000 E nell'altro pacchetto Oh Mega Ho trovato Ah diarrea Sì sì La sana diarrea Però insieme ragazzi c'era Perez che è buono Poi abbiamo trovato Yotobi Yotobi in a pack Perché abbiamo trovato Musa Salve a tutti ragazzi Siamo qui su FIFA In realtà questo video non so se lo vedrete mai o no Ho pure il cappello di Watch Dogs Giusto per ricordarvi che sarà la prossima serie Davvero è perché sono spettinato a SPAC Ho vinto un draft E ho fatto un po' di challenge Insomma ho questi pacchetti gratuiti Quindi insomma ragazzi Vabbè e quindi niente ci apriamo questi Sto registrando sì Oh Buono questo si inizia bene Amsic Mare chiaro Amsic 85 Oh primo pacchetto 85 Per uno che Per un video che non dovevo neanche registrare GG Poi quando registro non so un cavolo Quindi ho detto Amore giusto vaffanlo Urq2 Fermi tutti Erano 12 e tutti buoni Allora Amsic Ok 2000 vale Vabbè Non credo tanto di più Sì 17000 Mettilo in cascina Ma poi Otamendi Anche Otamendi deve valere qualcosa Sì Oddio Che burro Che burro Che burro Allora me lo vendo Pure se penso che sia buggato Come lo schifo Porca zozza Già parte così Vabbè dai Se ci alziamo un 10.000 Ci sta Ci sta Buono anche questo Vediamo DC Del Betis Chi è Tu sei svegliato adesso Bruno Vabbè Quindi rifatti Rifatti Portiere Del Bologna Deve essere mega galattico Oh Portiere No dai Patrisi Non puoi Fammi uscire il pallone così grosso Patrisi 84 Mi fai fomentare per niente Guarda qua che zozzi Vizca al rondo C'è capite ragazzi Vizca al rondo Quando non vedo Escono le birbate No Ah Aleksandro Aleksandro Vabbè ci sta dai Oh Coman Zitti tutti Invece c'è Coman C'è Coman Quanto vale Coman Un cazzo Però quello che vi voglio far vedere io È un altro pacchetto Ma infine Guardate questo pacchetto ragazzi Perché è sempre bello riguardarlo Perché quando adesso ho fatto Oddio Che cacchio è Add Della Roma Egiziano Salah Che è 82 In questo momento Nel momento in cui l'ho trovato Ma Adesso sono attivi I potenziamenti E quindi ragazzi In questo video che faremo Faremo proprio questo Cioè nel senso Andiamo a Spacchettarci un paio di pacchetti Così Just for fun E testiamo Salah Anche perché Salah Potenziato Ma guardate qua Salah 93 È temporaneo Però 95 92 93 Sto giro ragazzi Non ho manco provato A qualificarmi Per La Weekend League Perché Ragazzi È un'ammazzata Attenzione Due pallini E ne ama Mannaggia Pacchetto oro Premium Maxi Eh Maxi Bond Raro il giusto Tutti i portieri Non li voglio i portieri Dunbia Stone Aspetta No pure questo era Dinamico Però dovrebbe valere qualcosa Manco vale anche No di Maria Porta Sfiga Oh Zitto di Maria Porta Sfiga Portiere A Sommer Buono Sommer Bastanza raro Dovrebbe valere qualcosa Tutti i portieri Sto a trovare Raga È incredibile Guarda quanto vale Vattene A Sommer Ultimo pacchetto Just for fun Ancora di Maria Gli do fiducia Raga Tanto Schifo Per schifo Schifo Bravo Porti Basta i portieri Sportiello Fantillimon No ragazzi No guarda Sono proprio troppo Sfigato Era un giocatore Questi qui Di Halloween Adesso che abbiamo Spacchettato La merda Andiamoci a fare Una partita E con questa squadra Proveremo Salah Io non rinuncio mai A Ciro Ciro Che però su Xbox Ragazzi Fa abbastanza schifo Con il mio club Ho fatto 4 partite E 3 gol Il vero Ciro È su PlayStation 4 Ve l'ho fatto vedere Però va bene Io direi di iniziare Anche perché ragazzi Ciamo Zio Fester In panchina Vorrei fare battute Sul fatto Questa squadra Fa paura Invece Raga Sta squadra Fa cagare Insomma No dai Mi si è bloccato Dai Non ci credo Che schifo FIFA Cioè veramente Me l'ha data persa Cioè il gioco Si blocca E me l'ha data persa A me Online Ah no Ragazzi C'ha Ciro Sovra lui C'ha Ciro Grande FIFA Hai fatto il tuo dovere Che passa attraverso Le persone Questo Attenzione Calle Ione È un fantasma Ok Eccolo qua Salah Vuole subito partire Con le sue skills Basta che va dritto Salah Salah va dritto Eh albero Eh ho capito Se me lo uccidi Ho rubato palla Senza guardare Stavo guardando il cellulare Per Ciro No 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 ragazzi Allora Salah Salah è il mostro Gli ho fatto l'assist GG Poi palo ovviamente Ciruzzo L'ho sfigato E poi Salah Sotto l'incrocio E uno Se fanno Ciro Sif Me lo compro No subito De più Salah con lo stop a inseguire Salah Eh eh Signore Ezio È un po' malato È un po' malato Salah Però Vuole correre lo stesso Eh vabbè Eh capito Me ne fischierai una Prima in poi o no Salah ancora lui Ciro Ok Non va È un po' buggato Salah Ok Salah Melek Allora Io direi Palla a Ciro E sta abbracciando Ciro Oddio la presa Palla a Salah Ciao Oddio Salah Mamma mia Se li salta tutti No poi fa il cross Più brutto della vita Raga sto giocando solo io Stura Rota 3 Ok Salah corre come un cane Butta giù pure Ciro Mamma mia Salah Salah la pasta Dio Salah Fala la bomba E scappa Poi piccolo Mohamed Poi Messi Egiziano Eh Manco lo prendono Per fargli il fallo A Giorginio Il fenomeno Non ci credo Raga che prendo pali così Allora ragazzi Qua la deve Risolvere Ciro 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 No Ciro Tre ore Per tirare Eh dai eh Eccolo Ciro Ciro No Lo fa brutto così Oh ma non Ne entra sta palla Che cacchia c'ha A re reire Salah la palla Fa sparire Oh no Oddio raga Che gli stavo a fa No mi si è spenta La telecamera Che fail Si libera lo spazio Si libera lo spazio per Mohamed 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 Non lo ferma nessuno Mamma mia L'ubriaca L'ubriaca Fermi tutti Eh porco Il portiere più forte dell'universo Scesni Se ne va Ciro 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 E dice Che ha detto Che ha detto Qua ragazzi Glielo volevo fare più brutto Però ho detto Dai 1-0 E basta No Salah Eh no Quindi ragazzi Questo video un po' particolare Termina qui 9,1 per Salah Che ha fatto un gol E bene L'ha fatto però Ciruzzo Che è sempre il migliore in campo Ciro Però ragazzi Abbiamo provato su Salah L'abbiamo trovato nei pacchetti È stato un video un po' strano Vi volevo far vedere Quello che avevo trovato In questi giorni Un po' così Niente A punti per i prossimi video Un saluto a tutti Da make sure Ciao Ciao ragazzi Ciao